Ciao Taluci! Per questo progetto oggi andremo ad usare questo bellissimo filato della Shipies che si chiama Katona Denim, mentre l'amica Costanza, l'ispiratrice di questo progetto, ha usato la Lise Diva, molto molto bello anche in quella versione. Sono due filati completamente diversi, questo è molto più spesso, è un 100% cotone e infatti lo andremo ad utilizzare con un uncinetto del numero 4. Mentre con il filato Diva sicuramente sarà più adatto un uncinetto numero 3, poi dipenderà dalla vostra mano. Il quantitativo ve lo lascerò scritto in descrizione in quanto devo ancora terminare la maglia e quindi non so ancora bene quanto filato ne occorrerà. Entrambe i filati sono stati acquistati da Merceria Italia Artisan, dove potete trovare tantissimi bellissimi filati. Ovviamente tutti i link sempre nel box info. Ora passiamo al progetto. La mia maglia è realizzata con due piastrelle. Una, come potete vedere, con tutti e quattro i lati uguali, che va a creare questi bellissimi rombi. E io questo pannello con i quattro spicchi uguali lo userò per il retro. Mentre per il davanti, come potete vedere, andrò ad usare un pannello che su tre lati presenta lo stesso motivo del retro. Ma sullo spicchio alto, quindi quello dove io poi andrò a fare lo scollo, ho lasciato lo spicchio tutto pieno, proprio per poter creare poi la mia V. Quindi si sarebbe potuta creare anche sul disegno, ma volevo che la V avesse, diciamo, un contorno, chiamiamolo così, più definito. E quindi ho deciso di tenere la parte piena. Quindi ora io andrò adesso a spiegarvi come si realizza la piastrella. La piastrella ve la realizzerò in questo modo. Vi farò questa piastrella, perché ovviamente l'altra avrà, per l'appunto, tutti e quattro i lati uguali. Quindi, semplicemente, quando andrete a lavorare la piastrella dietro, invece di fare questa lavorazione, quindi avere lo spicchio pieno, li farete uguali. Mentre sul davanti farete la piastrella così come adesso ve la vado a spiegare. Iniziamo realizzando un anellino magico, che fermeremo con una catenella. Ora faremo altre 3 catenelle per sostituire la nostra prima maglia alta. Dopodiché, sempre all'interno dell'anellino, andiamo a fare altre 2 maglie alte. 1 e 2 2 catenelle e altre 3 maglie alte. Stringiamo un pochino l'anellino magico. In questo modo. Facciamo altre 2 catenelle e altre 3 maglie alte. 2 catenelle e andiamo a fare l'ultimo modulo, il quarto, composto da 3 maglie alte. Stringiamo il nostro anellino. e in questo modo. Ed ora carichiamo il filo ed entriamo sulla terza catenella di inizio giro. estraiamo il filo ed andiamo a fare una maglia alta, così da ritrovarci al centro di quello che sarà il nostro angolo. Ora realizziamo 3 catenelle, voltiamo il nostro lavoro ed andiamo a fare altre 2 maglie alte, perché la prima è sostituita dalle 3 catenelle. facciamo 2 catenelle e ci spostiamo nel prossimo forellino, dove faremo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. andiamo a ripetere questo per tutto il giro, quindi di nuovo 2 catenelle, ci spostiamo nel prossimo forellino ed andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. ripetiamo fino al termine del giro. terminiamo il giro dopo aver fatto le 2 catenelle di separazione, rientrando in quello che era il forellino dove abbiamo realizzato le prime 3 maglie alte. ne realizziamo altre 3 maglie alte. 1 2 3 carichiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo nella terza catenella di inizio giro. stiamo attenti a prendere tutte e due le costine. ecco qui. e abbiamo terminato quello che è il secondo giro. eccoci arrivati al quarto giro, quindi vado sempre ad alzarmi con le mie 3 catenelle, volto il lavoro e ne faccio altre 2 2 maglie alte, non 2 catenelle. facciamo 2 catenelle di separazione, quindi l'angolo sarà sempre composto così, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e 2 catenelle per entrare e uscire dall'angolo, quindi quello sarà sempre invariato ad ogni giro. ora nel primo forellino che incontreremo andiamo a fare solo 2 maglie alte ed andiamo a lavorare le maglie come si presentano, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta di questo motivo centrale. una due e tre altre, scusate, 2 maglie alte nel forellino che segue una e due come potete vedere noi stiamo ingrandendo quello che sarà il nostro rombo quindi è per questo motivo che qui ci sono solo 2 maglie alte perché il rombo sarà la punta da 3 maglie alte il secondo giro di rombo fatto da 7 maglie alte e il giro centrale che sarà quello del prossimo giro da 9 maglie alte quindi ora andiamo a ripetere per tutta per tutti i restanti lati lo stesso schema quindi di nuovo 2 catenelle 1 1 e 2 rientriamo nell'angolo con 1 2 3 maglie alte 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte 1 1 2 e 3 2 catenelle e di nuovo in questo forellino 2 maglie alte 1 2 lavoriamo le 3 maglie alte centrali quindi 1 2 2 e 3 e nel foro che segue 2 maglie alte 1 e 2 ripetiamo questo per i giri restanti ecco qui il giro si chiude sempre nello stesso modo e 3 maglie alte nel mezzo angolo e si chiude con una maglia alta nella terza catenella d'inizio quindi andiamo a fare il nostro 1 2 3 4 quinto giro dopo aver effettuato le 3 catenelle voltiamo la nostra piastrella ed andiamo a fare le altre 2 maglie alte per concludere il nostro mezzo angolo 2 catenelle di separazione entriamo nel prossimo forellino ed andiamo a fare 2 maglie alte lavoriamo queste maglie così come si presentano quindi una maglia sopra ogni maglia alta sottostante quindi una 2 3 4 5 4 5 6 6 6 e 7 andrò a fare adesso 2 maglie alte in questo foro 1 e 2 2 catenelle e ripeto sugli altri lati esattamente quello che ho fatto su questo finito il quinto giro andiamo a posizionare un marker su uno dei nostri lati a scelta non è necessario che sia uno piuttosto che un altro io lo vado a posizionare qui vedete lo metto proprio attorno a una maglia alta in modo da non infastidirmi quando andrò a lavorare e questo sarà il mio lato pieno lo vado a marcare all'inizio perché la lavorazione all'inizio potrebbe confondermi poi più andiamo avanti più rimarrà definito qual è il lato pieno e quindi potremo anche toglierlo bene iniziamo con il nostro sesto giro faccio sempre le mie 3 catenelle per fare l'angolo volto il lavoro e vado a fare le due maglie restanti della nostra metà angolo sempre le nostre 2 catenelle in uscita dall'angolo questa volta ecco metto giù un attimo lavoro vi faccio vedere così capite meglio questa volta noi se andiamo a contare queste maglie sono 11 quindi siamo arrivati al centro del nostro rombo da questo giro dobbiamo andare avanti a stringere perché comunque il rombo prima allarga e poi stringe però mentre andiamo a stringere qua dobbiamo crearci già altre due punte quindi queste punte qua questa punta qua andrà posizionata una di qui e una di qui quindi non andiamo a fare due maglie basse perché due maglie basse le facciamo solo quando dobbiamo allargare il rombo quando dobbiamo stringere qui dobbiamo mettere le tre maglie per creare appunto altre due punte quindi cosa facciamo invece di fare due maglie ne facciamo tre quindi una 2 e 3 2 catenelle ricordate comunque le due catenelle di separazione ci sono sempre carichiamo il filo saltiamo la prima e la seconda maglia andiamo a lavorare nella terza e le lavoriamo tutte fino a lasciarne 2 ecco qua ne sono rimaste due che salteremo con le due catenelle qui dobbiamo avere sette maglie alte quindi come vi avevo detto all'inizio 3 7 9 7 e nel prossimo giro saranno di nuovo tre quindi facciamo due catenelle ed andiamo a fare in questo foro tre maglie alte quindi l'altro l'altra punta del prossimo rombo quindi farò due catenelle angolo e ripeterò il lavoro però in questo caso qui vi faccio vedere come andiamo avanti perché questo sarà il lato pieno e come lavoreremo adesso questo lato verrà lavorato nello stesso modo in tutti i giri quindi non andrò poi giro per giro a dirvi come intervenire su questo lato perché sarà sempre nello stesso modo mentre gli altri invece vanno a creare sempre più rombi quindi per qualche giro vi faccio ancora vedere come si creano i rombi poi saprete sicuramente andare avanti da sole quindi adesso riprendiamo subito in mano il lavoro e andiamo a fare le nostre 2 catenelle nell'angolo facciamo le nostre 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte ora facciamo due catenelle sempre entrate ed uscita in tutti i giri vanno fatte due catenelle e qui invece di farne tre come abbiamo fatto su questo lato in questo foro andiamo a farne due e ne faremo sempre due su questo lato perché qui dovremo andare avanti sempre ad ingrandire quindi due maglie alte lavoriamo tutte le maglie alte sottostanti ed ora 2 maglie alte in questo foro 2 catenelle e di nuovo l'angolo 3 maglie alte 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e tra 2 catenelle e siccome siamo di nuovo nel lato dove dobbiamo creare i due nuovi rombi qui andiamo a fare le tre maglie alte le tre maglie alte nel primo foro 1 2 3 2 catenelle salpia saltiamo le prime due maglie alti sottostanti e nella terza maglie alta nella quarta maglia alta nella quarta maglia alta nella quinta maglia alta nella sesta maglia alta nella settima nell'ottava e nella nona le ultime due le saltiamo con due catenelle e nel prossimo foro tre maglie alte 1 2 3 2 catenelle e ripetiamo la stessa lavorazione su quello che sarà l'ultimo lato vedete questo è rimasto ancora pieno mentre questi in questi abbiamo posizionato le punte dei due prossimi rombi che andranno a formarsi per ingrandire la piastrella e ovviamente questo centrale che sta iniziando a stringere eccoci qua io ho già fatto l'angolo perché oramai sapete come si fa non c'è bisogno che ve lo faccio vedere ogni volta e siamo nel settimo giro se non erro quindi vado a fare le mie due 2 catenelle e ora vedete noi qui abbiamo tre maglie alte significa che questo è un rombo quindi non è un ingrandimento del rombo già esistente oppure rimpicciolimento se andiamo a stringere è la punta del rombo quindi noi adesso dobbiamo allargare e ogni volta che dobbiamo andare allargare un rombo nel forellino che precede le tre maglie e nel forellino che segue le maglie dovranno essere due quindi ho fatto già le due catenelle di separazione entro nel primo foro e faccio due maglie alte lavoro le maglie sottostanti come si presentano e nel forellino che segue due maglie alte 1 e 2 2 catenelle di separazione salto le prime due maglie alte del rombo sottostante dalla terza ne vado a lavorare appunto 3 1 2 e 3 2 catenelle di separazione prossimo foro 2 maglie alte 1 e 2 questo è un altro l'altra punta di un altro rombo quindi vado a lavorare quindi vado a lavorare tutte le maglie sottostanti 1 2 prossimo foro nel lavoro solo 2 1 e 2 vedete abbiamo chiuso il rombo centrale e stiamo ingrandendo i due rombi laterali quindi ora vado a fare lo stesso schema su tutti i lati ovviamente ricordatevi sempre che il lato pieno dove avete il marker invece verrà lavorato tutto pieno quindi sempre due maglie alte lavoro tutte le maglie due maglie alte poi ovviamente le due catenelle 2 catenelle e l'angolo quindi questa è la lavorazione che va eseguita sempre sempre su questo lato mentre qui andiamo a fare esattamente quello che abbiamo fatto su questo lato sia su questo che su questo ottavo giro ho già fatto l'angolo 2 catenelle di separazione entro nel primo foro con due maglie alte 1 e 2 lavoro le maglie sottostanti così come si presentano nel prossimo foro 2 maglie alte 1 e 2 come potete vedere vedere adesso abbiamo 11 maglie alte quindi la parte più larga del nostro rombo facciamo due catenelle andiamo a saltare le tre maglie alte centrali quindi entriamo nel prossimo foro facciamo due maglie alte lavoriamo tutte le maglie sottostanti quindi le sette maglie sottostanti le andiamo a lavorare tutte e nel prossimo foro 2 maglie alte 2 catenelle andiamo a fare l'angolo facciamo questo per tutti i lati ecco qui come si presenterà il lavoro da qui in avanti direi che il lavoro è la ripetizione di quello che abbiamo fatto fino ad ora quindi questo lato andrà avanti ad essere pieno mentre gli altri tre lati andranno avanti a creare i rombi quindi nel prossimo giro verranno fatte tre maglie alte qui verrà inizierà a decrescere il rombo già esistente qui ci saranno altre tre maglie alte che sarà una nuova punta per un nuovo rombo qui si andrà a decrescere e idem qui altre tre maglie alte e così via per tutti i giri perché io vi ho detto di fare prima la piastrella con i quattro lati uguali perché quella sarà la nostra piastrella retro ed è quella che ci serve per avere i riferimenti per la grandezza di questa perché perché quella ce la possiamo provare addosso man mano che cresce mentre questa dovremmo lavorarla appoggiandola sulla seconda per capire quando vogliamo iniziare a creare la nostra v quindi il nostro scollo a v come ho fatto io a capire quando era il caso di iniziare lo scollo semplicemente la piastrella la seconda piastrella quindi questa con il lato pieno doveva misurare un quarto della piastrella intera quindi io ho preso la piastrella intera già fatta l'ho ripiegata a metà e questo quadrato doveva stare sopra alla piastrella piegata in quattro perfettamente allora a quel punto io ho iniziato a creare su questo lato la mia v la piastrella ovviamente dovrà essere larga per la larghezza che vi occorre quindi dovrete prendere la vostra circonferenza dividerla a metà e quindi avrete il lato la misura della vostra piastrella io ho fatto in questo modo per capire come quando più che come iniziare la mia v se poi voi vorrete adottare un altro metodo è a vostra discrezione io ho usato questo metodo perché ho visto che effettivamente quando mi sono poggiata addosso la piastrella grande ho visto che la vi doveva iniziare più o meno a 7 8 9 giri alla fine adesso vi faccio vedere le mie sovrapposte per farvi capire esattamente quanti giri ho fatto io prima di iniziare la vi vedete io la mia vi l'ho iniziata dopo 9 giri 1 2 3 4 5 6 7 8 vedete sul quindi ho fatto 9 giri il decimo al decimo ho iniziato a creare la mia fenditura per creare poi la v ora vi faccio vedere come come aprire appunto per fare lo scollo a b per fare il nostro scollo dobbiamo andare a trovarci la nostra maglia centrale le maglie sono dispari quindi facilissima da trovare in questo caso la mia è la dodicesima l'ho già contata ovviamente quella del campione è la dodicesima quindi vado a contare 24 6 8 10 11 12 entro nella dodicesima maglia pesco il filo e vado a fare 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta tiro bene sotto per fermarla bene ed ora vado a lavorare la prima l'ho fatta con le 3 catenelle vado a lavorare la seconda in questo modo entro nella terza pesco il filo esco solo da due tengo due occhielli sull'uncinetto carico il filo entro nella successiva pesco esco solo da due ed ora le chiudo tutte e tre insieme quindi ho fatto la mia prima diminuzione le altre maglie le lavoro esattamente così come si presentano quindi andrò avanti a lavorare i tre lati in modo da continuare lo schema quando arriviamo da quest'altro lato vi faccio vedere come chiudere per creare la v quindi ecco qui io ovviamente vedete ho fatto tutto il giro della mia piastrella e ora ovviamente l'inizio e la fine sarà sempre qua in mezzo motivazione per la quale vi ho fatto staccare il filo e riattaccare qui ora come fate all'inizio dovete rimanere a 4 maglie dalla fine del giro solo in questo giro quella centrale la contiamo insieme quindi la maglia centrale sarà sia l'inizio che la fine di questo giro dopo di che ovviamente inizio e fine giro saranno sempre separati solo in questo giro sono insieme quindi andiamo a contare io ho iniziato a lavorare da questa maglia quindi sono a 1 2 3 e 4 quindi questa sarà la quarta ultima entro proprio in questa carico il filo esco a metà ricarico il filo entro nella successiva esco a metà quindi solo da due maglie ed ora chiudo la maglia tutte insieme lavoro le ultime due normalmente in questo modo una e due ed abbiamo così iniziato la nostra vi ora si lavorerà sempre nello stesso modo ovviamente la partenza ve la faccio vedere e poi sarà sempre la stessa lavorazione quindi io faccio una catenella volto il fila il lavoro alzo e faccio l'apertura con la maglia simulata perché lo faccio perché mi rimane meno buco scusate mentre parlavo l'ho fatta malissimo mi rimane meno il forellino delle delle tre catenelle quindi vado a fare l'ultima di nuovo ecco qui quindi faccio la catenella per chiudere la maglia per alzarmi di una volto il lavoro ora mi alzo giro attorno entro ve l'ho già fatto a vedere anche in un altro lavoro esco da due ed esco dall'ultima così ho simulato la mia prima maglia la seconda la vado a lavorare e di nuovo la terza e la quarta saranno la diminuzione quindi entro nella prima chiudo la maglia a metà uscendo solo da due carico il filo entro nella prossima chiudo la maglia metà chiudo tutto insieme ed ho fatto la diminuzione quindi adesso posso ricominciare a lavorare così come si presenta vedete ovviamente sta allargando la lavorazione fino ad arrivare a quella che è la nostra piastrella finale al termine della lavorazione noi avremo questo quindi vedete la prima maglia è in comune sia da un lato che dall'altra e poi si va avanti lavorando come vi ho fatto vedere ora dobbiamo prendere la piastrella del retro e calcolando quante maglie abbiamo quindi su una spalla dobbiamo andare a dividere il nostro lavoro sull'altra piastrella vedete io ho contato su una spalla e sull'altra quante maglie c'erano e ho messo i marker li ho messi semplicemente perché così quando vado a cucire sono sicura di prendere tutte le maglie quindi ora noi adesso andremo a cucire a maglia bassa o come volete una piastrella all'altra lasciando ovviamente questa parte che sarà la nostra v e anche cucita la spalla ovviamente un pezzo aperto per lo scalfo manica il resto fino al basso verrà tutto cucito la cucitura è a vostra discrezione se non sapete come unire due pannelli potrete trovare in fondo al video della maglia jackie il metodo che uso io per unire le piastrelle ecco qui dopo aver unito il davanti e dietro adesso vi faccio vedere la cucitura vedete ho unito davanti e dietro e ho unito le spalle ho fatto un giro di rifinitura a maglia bassa sia attorno al collo che sotto se dovesse essere necessario potete anche continuare allungando la maglia semplicemente lavorando in circolare io non ho ritenuto di doverlo fare perché la maglia aveva la misura che occorreva a me io direi che questo progetto è finito e spero vi sia piaciuto a me è piaciuto tantissimo ringrazio ancora l'amica costanza che ha deciso di farmi conoscere questa bellissima piastrella con la quale ha fatto per prima la maglia e la vedrete l'avrete già vista nella presentazione del video io ringrazio anche francesca italia artisan per i bellissimi filati questo è naturalmente il diva usato da costanza che trovate sempre nel box info insieme ovviamente al link per andare a visitare il suo sito bellissimo dove troverete un sacco di bellissimi filati io vi do appuntamento al prossimo tutorial vi invito a venire a trovarmi sul gruppo facebook creando con luci e pulci vi mando un bacione grande ciao mie lucine al prossimo video tutorial ciao 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 ciao